Ciao! Oggi prepareremo le tempere paffute, ovvero le Puffy Painting. Vediamo cosa ci serve! Un bicchiere di schiuma da barba, un bicchiere di colla vinilica, un cucchiaio di amido di mais, un recipiente, una posata di plastica per mescolare, del colorante alimentare, delle siringhe. Mescoliamo la schiuma da barba con la colla vinilica. Aggiungiamo l'amido di mais. Ridistribuiamo tutto il composto in vari recipienti e aggiungiamo il colorante alimentare. Le nostre miscele sono pronte e sono totalmente versatili. Ad esempio potremmo prendere un cartone e preparare un quadretto, oppure utilizzarle per i nostri vestiti. O meglio ancora, decorare le nostre finestre. Dopo circa 48 ore, le nostre Puffy Painting sono pronte. Ciao! 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 Grazie a tutti.